Torna come nuova la scuola elementare De Amicis dopo i lavori di ristrutturazione all'inaugurazione anche il ministro dell'istruzione, Lucia Azzolina, del servizio dell'inviata Rossella Santini Una scuola antica di paese, ora completamente ristrutturata con forme antisismiche ed energetiche grazie alla tenacia del sindaco e della sua comunità, con 2 milioni di euro del fondo Chioto e 250 mila euro di contributi statali, un lavoro portato avanti anche durante il lockdown Fiano Romano balza così alla ribalta nazionale con la politica del fare è per questo che la ministra dell'istruzione ha voluto tagliare il nastro Se l'aspettava da Fiano Romano un passo così veloce Tutto dipende dalle persone e da chi gestisce In questo caso abbiamo un bravissimo sindaco e quindi onore al merito a lui e a tutti quelli che ci hanno lavorato Il sindaco di Fiano Romano, Torino Ferilli, lavorando a testa bassa, ha realizzato così un sogno quello della sua comunità Siamo contenti perché essendo anche un presidio completamente ristrutturato accoglierà sicuramente in sicurezza e con gli spazi adeguati Siamo in trasferimento da Roma quindi veniamo da un'altra realtà e questa è una realtà molto più evoluta Insomma i risultati si vedono E chi in questa scuola c'è venuto tanti anni fa? Guardi quest'aula Era di questo colore? No, no Il colore non me lo ricordo però non era così No, il colore non era così Che era di questo colore, no? No, no, i colori sono stati di volta in volta rifatti, ripresi Lei ha insegnato qui? Anche lei è emozionata? Sì, pochino sì Lei come se la ricorda questa scuola? Io veramente ho fatto qui la terza elementare Quindi pensi quanti anni sono? Adesso è tutta un'altra Cosa? Sì comunque era bella lo stesso Cosa? Sì? Sì? Sì?